buonasera a tutti benvenuti a questo nuovo appuntamento con la nostra web serie che ormai è giunta al terzo appuntamento di questo di questo ciclo design talk l'abbiamo inaugurato appunto tre settimane fa con l'idea di andare un pochino a creare uno strumento diverso dal solito che consentisse alla fine di una giornata di lavoro guarda caso poi di lunedì giornata che sempre pesante di fare un pochino una chiacchierata diciamo quasi tra amici non a caso ho invitato e sto invitando persone personaggi uno lo vedete qua tra poco ve lo presento il professore aldo bottoli con cui negli anni abbiamo avuto modo di incontrarci anche in giro per l'italia di chiacchierare di portare avanti alcune tematiche dicevo chiacchierata un po così informale su cui il tema però un tema caldo su cui discutere ed è quello di andare un pochino a delineare quelli che saranno i canoni delle idee comunque diciamo delle ispirazioni per ragionare sulla casa post covi tema grandissimo effettivamente però è in dubbio lo dico sempre ormai lo dico da tre appuntamenti che la situazione che ci stiamo trovando a vivere me ancora ma soprattutto che ci siamo trovati a vivere a marzo aprile in qualche modo ha spostato in maniera velocissima avanti le lancette dell'orologio precipitandoci in un in un cambiamento che stava andando sì col digitale molto lentamente io per esempio smart working c'ero già da diverso tempo diverse persone lo erano già però ecco ci siamo ritrovati con lo smart working con la scuola a vivere gran parte delle ore all'interno delle nostre abitazioni termine nostre case quindi quello che un po stiamo dicendo che siamo partiti con quella bellissima definizione del dell'architetto mandarini di andare a creare dei micro ambienti tematici all'interno della casa questo effettivamente quello che un po apre i termini a queste a queste nuove funzioni che lo spazio domestico sia data ad accoglieremo sempre raccontarvi questo questo aneddoto perché ovviamente vi ospito all'interno del salotto di casa mia ormai lo faccio da diversi mesi siete sempre assidui nel seguirci ecco come dico sempre quale spalle c'è il mio divano qua davanti ho il mio televisore lo spazio dell'intrattenimento serale ma non solo diventa lo spazio del lavoro diventa lo spazio della ginnastica magari alla mattina quindi la casa a tutti gli effetti come spazio poli trattino funzionale l'abbiamo definito così aldo oggi parliamo di colore con il professor aldo bottoli sfruttando diciamo le sue competenze una chiacchierata fatta proprio di domande che potete anche ascoltarvi mentre magari concludete lavorando al computer questa questa giornata parliamo di colore perché il colore è un elemento essenziale io con il professor aldo bottoli che lascerei lui presentarsi io dico solo che un esperto di colore di perception design magari poi lasciamo lui a definire di cosa di cosa si tratta però vorrei partire un pochino con il definire la materia prima di entrare nel concreto di come andremo ad utilizzare il colore all'interno di queste di queste nuove abitazioni pulifunzionali io ti ho sempre sentito dire che il colore non è un trend non è un aspetto che riguarda solamente l'estetica ma tu ami molto definire la scienza del colore qui amo molto si definisce scienza del colore io vorrei entrare un pochino nel merito di questa di questa definizione farti spiegare perché il colore una scienza perché il colore ha dei canoni e delle regole ben precise sì buonasera a tutti marco accennato a quella quella variazione dalla dalla teoria del colore noi sentiamo sempre parlare di teoria del colore invece è importante passare dalla teoria del colore che andava bene secolo scorso alla scienza del colore perché oggi abbiamo molti più strumenti a disposizione per poter progettare e per poter studiare il fenomeno del colore quindi dobbiamo fare questo sforzo deve passare dalla teoria alla scienza non è così semplice non è così semplice e anche io che sono nato nel colore da una famiglia terza generazione di artisti restauratori al colore ci sono nato molto più tardi ho dovuto arrivare negli anni 80 84 quando organizzato per il salone del mobile il penso primo convegno nazionale sul colore nell'architettura di interni era l'84 john not nasa aveva liberalizzato determinate informazioni sulla luce e sul colore e le neuroscienze incominciavano a far trasparire qualche informazione che si intuiva potesse essere utile nel mondo del progetto quindi da lì inizia un percorso che in questi anni ho cercato di fare di ricerca di docenza di progetto e questa triplice veste a volte abbastanza faticosa da portare avanti mi ha obbligato a mettere in ordine quello che andavo a cercare e a studiare e a rivedere molto di quanto si trovava scritto io il mio collega giulio bertani abbiamo fatto un percorso direi abbastanza impegnativo di messa in coerenza di queste informazioni perché ancora oggi molto del mondo scientifico ha un linguaggio così stretto così dedicato verticale diciamo che è difficile utilizzare tutta la conoscenza che oggi è disponibile quindi lo sforzo che abbiamo fatto è stato proprio quello di mettere in coerenza il più possibile questa informazione con le necessità del progetto ma anche con la necessità della didattica del portare qualche cosa di nuovo a contatto con dei giovani che devono intraprendere una nuova strada hai accennato la covid 19 e questo è stato ed è un grosso problema ma sicuramente è un grande acceleratore che ci costringe a cambiare molte strade a considerare molte cose in maniera nuova fra queste anche la casa come hai accennato tu prima che forse davamo un po' per scontata e invece non lo è poi così tanto ecco può diventare un luogo molto importante di come dire di vita ecco mi prendo un riferimento che leggo per essere molto così stretto sull'argomento che mi hai dato perché è importante il progetto percettivo perché è l'altra parola scienza del colore ma nel momento in cui si entra nel merito di scienza del colore si apre il grande tema della percezione non se ne può fare a meno quindi il progetto diventa un progetto percettivo che tiene in presente tutti i nostri organi di senso non solo quelli principali ma quelli generali che sono 15 16 ad oggi ben definiti ho scritto una nota perché importante il progetto percettivo negli ambienti di lavoro e nella propria casa per il semplice fatto che mette al centro non le cose o le superfici da qui il tema della moda di trend come marginale ma le persone e il loro modo di interagire con l'ambiente circostante cioè il tema della relazione diventa centrale i nostri progetti partono dal fotografare la persona i suoi gesti all'interno di quello spazio e di conseguenza le soluzioni formali che escono derivano da queste necessità nei luoghi di lavoro questa interazione aumentata dalla contemporanea presenza di più fattori qui scrivo si risiede a lungo in spazi artificiali racchiusi vi si svolgono compiti molto vari dove ripetitività calo di attenzione rispetto dei protocolli di sicurezza impiego di strumenti richiedono molta attenzione per quanto riguarda la casa c'è la complicazione aggiunta del fatto che si è in uno spazio di vita e che quindi le interazioni fra le persone sono molto molto varie e sono perturbate dal fatto che ci sono delle necessità di vita quotidiana ci sono i figli ci sono dei tempi e delle delle scene da costruire volta per volta ecco devo proseguire no 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 guarda allora il discorso è molto interessante soprattutto mi soffermo su questo su questo tema della della scena da costruire perché mi rilascio sempre un po quello che abbiamo detto anche negli scorsi negli scorsi appuntamenti perché è giusto è una web serie che è dedicata a un tema lì proprio parlavamo di quasi di entrare nella parte fondamentalmente no io faccio sempre l'esempio se devono devo lavorare in casa comunque devo avere i miei strumenti per poter lavorare devo ricreare un po quella formalità dell'ufficio la camicia che magari in un momento di relax in salotto non tengo però momento lavorativo devo mettere quindi questa idea di creare degli scenari sicuramente molto importante io adesso sto facendo le vedrai anche tu scorrere delle immagini di tuoi progetti fondamentalmente dove ti sei occupato come si può vedere ovviamente gran parte di strutture di tipo diverso ma come ho fatto un pochino la premessa all'inizio ecco adesso vediamo per esempio una sala credo che sia una sala di riabilitazione questa di spazi che sono molto semplici da leggere ecco qui è un salotto ma da leggere in termini di un target di riferimento e di funzioni che devono accogliere cioè se devo progettare una struttura che deve accogliere un gran numero di persone diverse devo prima capire quali sono quindi fare è quasi uno studio di marketing capire a chi mi rivolgo fondamentalmente di cosa hanno bisogno che spazi questi spazi che tipo di funzionalità devono accogliere la casa normalmente l'hai detto anche tu prima viene data quasi per scontata nel senso che la casa è fatta di quelle stanze che conosciamo numero variabile ma definiamo un bagno una cucina uno spazio dove rilassarsi intrattenere relazioni che adesso sono diventate anche virtuali come quelle che stiamo facendo noi zona living delle camere da letto dove potersi riposare poi magari qualche stanza in più per i più fortunati però generalmente sono tutte cose che si danno per scontate così come si dà per scontato anche l'interlocutore che che si ha di fronte non si va quasi mai ad indagare dove se ne ha la possibilità ovviamente i bisogni però io quello che vedo nei tuoi progetti un po nel villaggio alzheimer che se non erano proprio questo che stiamo vedendo adesso piuttosto che nelle altre strutture l'uso del colore comunque a un qualcosa di affine a quello che il mondo residenziale potrebbe anche essere trasportata questa tua esperienza magari ci dice anche tu come all'interno dell'ambiente dell'ambiente domestico qui tra l'altro proprio la sfida sul villaggio alzheimer era quello di ricreare un ambiente domestico stiamo parlando con di persone che hanno una disabilità mentale per cui creare un ambiente domestico è fondamentale tra l'altro mi dicevi che anche nel periodo del covid non hanno avuto problematiche di sorta all'interno di questo villaggio sì non hanno avuto problematiche nel far stare chiuse otto persone all'interno dei dei loro appartamenti perché evidentemente erano sufficientemente articolati per poter reggere la pressione di una giornata intera di attività che adesso qui avevo fatto una selezione di ambienti comuni e non privati proprio perché la maggiore problematicità è negli ambienti comuni non in quelli privati e questi sono spazi racchiusi particolari voi vedete tanti colori ma vedete linee di confine vedete del dei paesaggi e delle scene che si vengono a ricreare non vedete alberelli non vedete foglie non vedete un paesaggio ben definito ma un uso del colore che tiene presente la frequenza relativa cioè il colore che avanza e il colore che arretra ecco come in questo caso qui si è citato le città bianche della valle d'Itria questa è una mensa a ceglia messapica una mensa di un ospedale e l'uso del del colore è quello di creare degli avanzamenti e del degli spazi più lontani in questo caso il distributore dell'acqua non è abbandonato su una parete vuota grigia o di qualunque colore se sia sarebbe abbandonato sulla parete in questo caso si vede che ha accolto ed è appoggiato su quella superficie che viene in avanti viene verso l'osservatore in questo caso gioco della frequenza relativa funziona molto molto bene dopodiché ci sono ecco in questo caso tutto l'arredo era già presente non si poteva modificare nulla quindi i colori vanno in dialogo anche con l'esistente in questo caso un laminato verdino e cercano di inserirlo ecco una delle costanti dei nostri progetti negli spazi comuni è quella di partire dal gesto all'interno di quello spazio partire dagli elementi d'arredo e fare una proposta di basso impegno economico e una proposta che più delle volte realizzata a cantiere aperto cioè non c'è un cantiere che interrompe un'attività ma è un cantiere che si svolge durante lo svolgersi dell'attività normale quindi da qui anche la parzializzazione delle superfici cioè in molti casi non si dipinge tutto l'ambiente si dipinge solo una parte questo invece è abbastanza particolare se lo puoi fermare un istante c'è un grande stanzone un rsa un rsa nel veneto allora lascialo andare tanto si poteva intervenire solo sul plafone non si poteva cambiare nulla in questo caso abbiamo dato rilevanza al plafone questo invece è un altro tema è uno spazio strettissimo molto alto due due piani due livelli che però era l'ingresso per i bambini di una scuola che ospitava dei bambini in questo caso si è creata una favola attraverso queste forme molto semplici per creare quella situazione un po' estraneante un po del dell'inatteso ecco il tema che cerchiamo di affrontare anche quello dell'andare a superare un'aspettazione io mi aspetto di trovare una cosa e invece io ti ribalto e creo la situazione wow no a non me l'aspettavo ecco qui siamo in un sotterraneo questo è la parte bassa di quell'accesso della favola che avete visto prima che è molto stretta e sarebbe stata molto penalizzante perché era queste sono delle cantine per uno spazio che ospita donne con minori e il tema del colore diventa molto importante perché lì dentro c'è la vita di queste persone questo lo spazio gioco sotterraneo di prima anche qui vedete il colore utilizzato per frequenza relativa avanzamenti arretramenti in questo modo si gioca in sottrazione cioè io costringo chi osserva ad aggiungere il suo vissuto non gli do tutti gli elementi gliene da una parte solo come in questo caso c'è un paesaggio sì ma tu puoi vedere un deserto delle dune puoi vedere un campo in primo piano un muro dipende lo completo lo completo con la con la mia immaginazione col mio vissuto sostanzialmente completo questo paesaggio con quello che io conosco che associo a questi a questi elementi qua invece vedete delle poltrone regalate una lampada ikea e questo primo piano che va a determinare il campo lontano in questo caso qui sempre mobili che a situazioni molto 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 semplici delle campiture parziali che giocano e integrano gli elementi che sono accostati questo potrebbe essere portato anche in uno spazio privato ecco qui vedete un effetto cucina realizzato con un frigorifero un pezzo di mobile e una mensola prima erano tre pezzi appoggiati un muro bianco e poi diventa un effetto cucina più più rilevante se allora è evidente diciamo il fatto che dovrò dipingere in qualche modo le pareti alle mie spalle ma la sfida secondo me è capire e questo magari ti chiedo di provare un pochino a fare questo questo sforzo per dare ovviamente qualche informazione in più anche ai nostri partecipanti che ci stanno seguendo la sfida ovviamente è l'appartamento piccolo nel senso che molti dei nostri professionisti ovviamente per forza di cose operano in città dove le unità abitative sono sono piccole la sfida come ti dicevo è quella di capire come trasportare queste nozioni che stai facendo vedere comunque in uno spazio anche di una certa cosa un po' particolare eh quel salotto sì questa invece è una scuola a pantelleria quindi proprio sarà l'importanza di una scuola elementare in un'isola piccola e lontana come pantelleria quindi questo è uno spazio comune che diventa molto accogliente dove l'istituzione si rappresenta attraverso la cura degli spazi ma ti stavo chiedendo come come trasportare queste esperienze qua perché allora c'è un discorso ricordo bene anche col villaggio alzheimer riassi riallacciandoci un po quello che è stato detto l'altra volta che abbiamo detto assolutamente no di una casa post covede che deve essere un mini ospedale con respiratori con qualcosa di nascosto all'interno ambiente domestico però se non erro proprio nella casa alzheimer avevi usato anche il colore per mascherare determinate situazioni che lì eh per forza di cose per un ambiente che chiaramente a che fare con la sanità ci sono qui lo vedi ecco qui si vede una porta eh a norma eh antincendio piena di oggetti che non sono domestici in questo caso il mascheramento era fondamentale quindi l'attenuazione della componente del backstage l'attenuazione di tutti gli elementi che non sono conformi con la vita la casa lo spazio abitato certo questo invece è un altro un altro gioco nello spazio comune dove c'è il teatro i bagni il caffè di non far diventare il corridoio dei cessi ecco quindi anche qui si si usa la ceramica in maniera un po in attesa per ricreare una situazione non comune così senti meno l'effetto bagno perché questo corridoio collega il teatro collega al bar collega il laboratorio uomo donna e quindi era il rischio di avere l'effetto corridoio bagno era molto forte invece siamo albino scusa no il corridoio mi ha fatto venire in mente un altro bellissimo tuo progetto ma mi ri associo anche sempre al tema della casa perché io voglio partire da questi tuoi progetti poi per adattarlo al tema del residenziale delle esperienze in cui ci troviamo a vivere tu hai prima hai fatto hai detto una bellissima cosa nel senso la sfida era quella di fare vivere insieme otto persone diverse questo succede nel pubblico no hai meglio ti dico ma penso che sia esperienza comune anche di chi ci sta ascoltando la sfida è stata anche quella di far vivere quattro persone appartenenti allo stesso nucleo familiare all'interno di uno stesso ambiente esperienza mia personale ti ritrovi a vivere a passare 24 ore con la moglie cosa che non fai con i figli che hanno età diverse siamo quattro soggetti con esigenze completamente differenti mi riallaccio uno dei tuoi progetti che se non erro però non è qua rappresentato era ai metter l'altro un corridoio di una terapia intensiva che tu descrivevi tra l'altro come un luogo ovviamente abbastanza triste ma non solo per chi ci sta ma anche per chi si trova a dover lavorare in quello spazio quindi qua mi ri associo un po a quelle esigenze di tipo di tipo differente no c'è una persona che ci lavora non per questo deve avere una giornata pesante perché sta in uno spazio del genere lì se non sbaglio la sfida era stata proprio quella di rendere un pochino un po più piacevole e meno pesante lo spazio questo come lo associamo poi all'ambiente domestico anche qua possiamo pensare di far confluire esigenze di persone diverse in uno spazio piccolo con il colore ovviamente sì diciamo che la lo spazio piccolo della casa dovrebbe avere tante piccole scene e dovrebbe avere alcuni elementi variabili per soddisfare aspetti che sono comunque presenti anche nella vita domestica perché la risposta alle necessità biologiche esiste anche per chi abita ed è in relazione con la propria famiglia esiste una relazione dei comportamenti consolidati che diventano anche difficili da modificare così di colpo no ci sono delle abitudini dei 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 modelli dei circoli di comportamento anche nel rapporto con i nostri figli e si staura una prossimica che di colpo non si può modificare perché sono in connessione o sono in ufficio tra virgolette quindi anche il creare una scena che ha in sé degli elementi che cambiano che innescano quasi un piccolo rito che segnala una separazione adesso sto parlando con te per favore fai silenzio perché sto parlando con altre persone ecco questo stacco è importante se poi è aiutato da una piccola scena che cambia noi per gioco anni fa io e mio collega bertani avevamo creato il sole da scrivania un piccolo oggetto che si sfogliava il modello calendario e che dà un segnale di un piccolo cambiamento di una piccola intensità che cambiava così con la luce si può si può fare e a volte non consideriamo come la variabilità che esiste in natura e di cui abbiamo bisogno possa essere di grande utilità anche per la vita domestica e non servono grandi apparati in ikea piuttosto che in altre situazioni a basso costo abbiamo lampade che possono variare la temperatura colore abbiamo apparati che si possono accendere e spegnere con estrema facilità si può evitare di avere una luce zenitale sempre identica per qualunque attività si faccia e questo non funziona se io faccio i compiti non ho bisogno della luce che può andar bene per mangiare in cinque intorno al tavolo quindi il far mente locale che noi siamo animali molto complessi in relazione e che la componente relazionale subisce continue deformazioni in funzione di quello che dobbiamo fare della nostra aspettazione della relazione che abbiamo con gli altri forse anche solamente cambiare regime luminoso in una stanza può aiutare a dire ai propri bambini guarda adesso è cambiato il nostro la nostra relazione deve cambiare abbassa la voce certo 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 allora io adesso vorrei introdurti al un ospite che ho che ho invitato ma prima di spiegarti chi è vorrei giustificare il perché l'ho invitato io ti ho sempre sentito dire che il colore non è mai solo colore ma il colore anche materia c'è tutto un termine legato alla percezione è partita la televisione però due schermi scusa e dicevo non è mai non è mai solo colore ma c'è anche una componente di materia di percezione adesso è accennato anche all'aspetto della luce io intanto invito a collegarsi adriano paulon un po la sfida che ho voluto fare anche nel negli appuntamenti precedenti è stata quella di trovare una soluzione da presentare per offrire uno spunto ai nostri professionisti che avesse una tenenza col tema ma andasse in qualche modo anche oltre andasse al di là no io sono andato a ricercare questo aspetto della materia della matericità quindi di non di non un colore che fosse solo colore ma mi sono spinto anche a un colore che avesse anche un valore che è quello della salubrità perché l'altro tema che secondo me è fondamentale adesso all'interno dei nostri ambienti è quello del comfort no parlando di colore molto spesso magari ci troviamo a vivere un comfort che è percepito come un comfort visivo però passando tante ore all'interno della casa abbiamo anche un comfort legato al benessere la solubrità dell'aria adriano paulon sostanzialmente produce presenta una serie di vende diciamo sul mercato una serie di di pitture e di di intonaci che utilizzano l'argilla quindi un elemento fondamentalmente naturale che vanno al di là del del solo colore quindi io ad adriano vorrei chiedere proprio questo questo aspetto nel senso come come nasce come come si arriva a una pittura che non ha semplicemente solo una valenza di colore ma anche una valenza completamente diversa c'è un valore legato alla salubrità dell'ambiente ma non solo adesso intanto magari faccio girare anche qualche immagine tua così vediamo un attimino di cosa di cosa si tratta e poi chiedo aldo di intervenire su questo discorso della percezione del colore sfruttando magari proprio quella matericità che vedremo nelle immagini buongiorno buongiorno marco buongiorno a tutti diciamo che intanto la salubrità il benessere diciamo che non si arriva solo con una pennellata di colore in quanto il benessere legato all'argilla deve essere legato appunto anche alla stessa cura della parete con ad esempio un pannello in argilla oppure con un intonaco di un centimetro e mezzo due d'argilla successivamente poi diciamo si fanno le varie finiture che poi vedremo le immagini utilizzando dei colori piuttosto dei tonachini o delle argille lisce ad esempio questo è una parete fatta interamente in argilla di uno spessore circa di due centimetri ed è stata lasciata volutamente lì così com'è in quanto mi dà proprio l'effetto materico dell'argilla stessa quei puntini che si vedono sono praticamente le pagliuzze la paglia praticamente che è un ottimo legante naturale che è quello sopra questa parete chiaramente io posso poi intervenire con tutta un'altra serie di finiture tornando comunque la salubrità diciamo che l'argilla è un elemento che mi permette di controllare in modo naturale l'umidità controllare l'umidità sapete voi anche benissimo cosa vuol dire ad esempio d'estate un caldo umido l'argilla me la mantiene più o meno un 50 per cento dell'umidità quindi anche la percezione del caldo diciamo è diversa idem d'inverno un inverno freddo e umido chiaramente lo si sente di più questo ad esempio un'altra finitura che è stata fatta con un'argilla diciamo tipo tonachino però liscio tipo stucco veneziano qui abbiamo un altro esempio con argilla lasciata ecco questo era proprio quello l'ultima immagine che ti ho mandato dove si vede proprio l'effetto materico dell'argilla viene lasciata un po' rubida dove si notano appunto queste pagliuzze che poi vengono praticamente una volta finita la parete vengono lavate con una spugna e vengono risaltate un altro questo aspetto del materico che abbiamo visto anche nell'immagine precedente quindi un discorso di percezione come come lo viviamo come ci rapportiamo al colore quando non è solo colore ma è un colore da toccare che quindi ci dà una sensazione anche tattile scusa adriano volevo volevo questo approfondimento da parte del professore non ti sento aspetta che non so se ah sì scusa c'è solo disattivato il tuo microfono dovresti cliccare su ecco io per non interferire perfetto perfetto dicevo dobbiamo uscire dal dalla sensibilità specifica cioè i cinque sensi distraudito tatto ecco questo ci porta fuori strada dobbiamo pensare invece che noi abbiamo una sensibilità generale che è in gioco sempre per cui noi progettiamo per tutti i sensi e percepiamo con tutti i sensi ecco dove la matericità diventa molto molto importante non per la vista perché la vista palpa cioè ci riporta un'informazione sinestesica molto 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 profonda da una parte e dopo c'è una una sensibilità meccano cettiva una sensibilità termica quando si parla di confort no il fatto di vedere quelle pagliuzze è un'informazione profonda che ci dà già una sensazione profonda di caldo o di naturalità questi sono elementi che vanno al di là del del colore sono una una implementazione diciamo del valore poi c'è la sensibilità somatica che a sua volta riguarda gli organi distali quindi io anche a distanza sono in grado di qualificare una superficie ecco perché è importante dedicare attenzione alla matericità della superficie e al colore che esprime attraverso la matericità tenendo presente che la luce che colpisce la superficie e ne viene riemessa in maniera selettivata viene riemessa in funzione delle qualità della superficie tessile piuttosto che no quindi parlare di colore basta senza parlare di materia non ha molto senso parlare di colore senza parlare di l'integrazione con tutti gli altri oggetti non ha molto senso ecco perché la materia torna in primo piano come quella che stiamo vedendo ecco chiedo magari ad adriano però di dirci come si realizzano questi questi effetti no perché se è una questione di mano dell'applicatore se è una questione di di soluzioni di materiali proprio dell'argilla come come realizzare questo effetto perché effettivamente sono immagini che colpiscono per questa tridimensionalità anche che al colore diciamo che alcuni effetti li può diciamo realizzare anche il privato nel senso che ad esempio anche il semplice colore io posso dargli una finitura liscia che abbastanza piatta opaca però vabbè sempre bello da vedere ad esempio in un ambiente moderno come anche posso arricchirlo ad esempio con una sabbia di madre perla dove li dopo l'effetto del muro ruvido del muro diciamo intonacato allora lì se ho ad esempio una finitura con un cartongesso posso dar l'effetto del muro ruvido attraverso questa sabbia di madre perla che è una sabbia in colore che viene mescolata con le varie tonalità di colore tra l'altro i colori normalmente quando si parla d'argilla si pensa sempre al colore dell'argilla marrone ma effettivamente ci sono 36 tonalità quindi una gamma di colori abbastanza ampia chiaro che i colori che si trovano in natura non sono dei colori io non troverò mai il rosso ferrari o il giallo canarino sempre dei colori un po normale meno male e però insomma abbiamo anche dei colori abbastanza corposi come un rosso mattone tutte le tonalità dell'azzurro quindi anche da lì si possono fare degli abbinamenti abbiamo visto dalle immagini se le lasci anche scorrere dove ci sono delle... adesso stavo ripristinando lo scorrimento che è un attimo bloccato ma ma ci arriviamo ci arriviamo anche a quell'aspetto sì perché siamo rimasti i colori delle polvere eccolo qui perfetto stava tornando che abbiamo dei giochi di colore con tra l'altro anche le finiture come dicevo ci sono delle finiture che si possono realizzare anche semplicemente con una questo ad esempio si vede la differenza tra l'utilizzo della sabbia di madre perla e non quindi la differenza tra l'effetto del muro diciamo d'intonaco e quello liscio altri effetti invece necessitano di un applicatore con ad esempio questo è un effetto che è stato dato da un applicatore quindi anche la mano dell'applicatore sicuramente fa la differenza quindi se abbiamo un professionista riesce ad avere delle delle finiture che sono completamente diverse da quelle che può fare un semplice privato questo ad esempio una finitura liscia con una noi la chiamiamo diciamo un tonakino liscio tirato a spatola con la spatola giapponese ed è tipo un classico stucco veneziano la differenza è che rispetto al classico stucco veneziano che se lo rovino lo posso ripristinare perché l'argile è un materiale vivo cosa vuol dire che se io per un qualsiasi motivo vado a sbeccare una superficie liscia trattata con questa sorta di stucco veneziano diciamo naturale lo posso ripristinare umidificando tutta la superficie intorno andandolo a stuccare e poi riprendendo con la stessa mano e con la spatola e quindi vado a diciamo riposizionare la superficie liscia come era prima per esempio questo è un altro il bagno di un di un b&b che è stato realizzato in provincia di trento poi eventualmente tutte queste foto le trovate anche sul sito di nortex che è il distributore appunto di prodotti della con lutto e tra l'altro dovrebbe esserci anche l'indirizzo della di questo b&b che è un posto anche molto molto gradevole se volete anche diciamo provare questa sensazione di benessere potete anche andare ad alloggiare questo b&b ecco perfetto quindi diciamo che abbiamo visto un colore un pochino a 360 gradi io intanto adriano ti ringrazio e ti saluto grazie per averci portato questa questa ispirazione perché sicuramente il tema il tema del colore che va oltre il colore definiamolo così quindi con un aspetto materico con un aspetto ecco qua si vede bene anche il discorso della della rifrazione della luce giusto aldo quindi il tema che avevi di restituzione della luce no magari poi ti faccio anche fare quell'esempio che fai di solito di dove si trova il colore che effettivamente vediamo perché anche questo credo che per i nostri partecipanti sia diciamo per la cerce di luce illuminante sull'aspetto di dove di come di come percepiamo il colore poi ti faccio un'altra domanda perché nei tuoi progetti hai utilizzato una soluzione che mi interessa particolarmente nel frattempo grazie adriano rimani comunque con noi fino alla fine magari anche senza senza microfono e senza e senza webcam ma ti invito a rimanere ovviamente con noi al dottor non tanto grazie adriano un attimino sulle tue immagini ma soprattutto su quelle di una soluzione che vorrei che presentarsi tu perché l'ho trovata sicuramente molto ingegnosa adesso metto le slide ma mi riferisco a una pellicola che hai utilizzato all'interno di alcuni tuoi progetti che hanno assicurato la soluzione sicuramente rapida e veloce per cambiare pelle definiamola proprio così a un ambiente allora metto la presentazione intanto che così vediamo anche qualche qualche immagine scorrere di questa di questa soluzione perché effettivamente è molto interessante quindi se ci dici sia dove l'hai utilizzata che come viene utilizzata sono delle pellicole se non sbaglio si premetto che piacerebbe anche a me poter utilizzare molto di più quei colori e quella matericità che ho visto adesso ma non sempre questo è possibile nelle negli ambienti comuni le immagini che adesso io fatto perché marco vi fa vedere sono relativi a spazi comuni quindi qui c'è la necessità di avere tinte più sature linee di confine più evidenti per compensare il basso livello di finitura delle ceramiche come in questo caso o degli elementi d'arredo o delle pavimentazioni quindi laddove ci sono spazi più grandi e con minori finiture il colore deve essere più più intenso più forte deve giocare in maniera più come dire più forte le stesse gamme cromatiche non le utilizzeremmo in uno spazio privato quindi tenete presente questa questa tavolozza che qui nelle immagini che avete visto è molto vivace lo è perché in quegli spazi deve compensare la mancanza di finiture oppure delle degli arredi molto molto bassi in questo caso abbiamo delle ceramiche 20 20 basiche bianche si trattava di dare un po di carattere a questi bagni senza finestre tra l'altro sono dedicati all'asilo mariuccia donne con minori e quindi l'utilizzo di pellicole come queste aiuta a dare un tocco di colore a rendere più accoglienti meno istituzionali diciamo questi questi bagni sono reversibili si possono togliere e mettere laddove ci sono dei buchi o degli accessori che devono essere sostituiti è sufficiente stuccare e si mette la pellicola e la diastrella è perfettamente ripristinata sono resistenti al lavaggio e anche le sanificazioni piuttosto vivaci diciamo e il costo di intervento il tempo il corso di intervento è molto limitato quindi questa tecnica della pellicola da porre sulla piastrella mantenendo la fuga questo è fondamentale l'abbiamo utilizzato più volte per trasformare velocemente un ex cucina in uno studio medico piuttosto che per dare diciamo una maggiore qualità di accoglienza a bagnetti che erano tutti bianchi con piastrelle bianche ed erano chiaramente il bagno di un'istituzione e però anche all'interno di un ambiente domestico una soluzione di questo genere laddove voglio cambiare pelle velocemente a quello che che è il mio la mia decorazione di casa che magari molto assolutamente lo posso utilizzare per esempio un bagno vecchio che è stato in parte trasformato ma sono ancora risiste residue delle decorazioni che ormai hanno lasciato un po la traccia del tempo possono essere modificate con la pellicola oppure devo cambiare un rubinetto devo spostare un accessorio cambio gli accessori ecco in questo modo io posso riqualificare l'ambiente in maniera molto rapida con costi bassi in questo caso addirittura abbiamo messo un finto specchio ad altezza di bambino per dare la possibilità anche al bambino dei due anni due anni e mezzo di avere la sua altezza una piccola riflessione e imitare la mamma insomma sono quei giochi che si innescano perché sono materiali facili da 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 mettere in opera un bagno di questo genere ha un costo di 130 140 80 euro quindi è pensabile applicarlo in maniera abbastanza semplice insomma e anche personalizzarlo certo aldo stanno arrivando alcune domande da parte dei professionisti che ci stanno seguendo ovviamente domande di carattere pratico su come utilizzare il colore in ambiente domestico io provo a parti qualche domanda magari diamo qualche indicazione ai nostri professionisti in termini di percezione sicuramente il colore utilizzato per far percepire in questo caso spazi con altezza ridotte come più alti ma ci chiedono anche come far percepire spazi piccoli come più grandi c'è questo tema qua perché effettivamente come ti dicevo stare magari in casa in quattro persone in 70 metri quadri e 70 metri quadri che possono avere un respiro completamente diverso a livello di percezione a livello di comfort e di vita anche familiare penso che sia completamente differente sì in questo caso si può bisogna uscire dal luogo comune della tinta chiara che allarga la tinta scura che restringe perché non funziona noi abbiamo modificato radicalmente ambienti piccolissimi proprio utilizzando anche tinte scure l'importante che ci siano linee di confine quelle che noi chiamiamo apparati allogativi e ci sia un utilizzo della frequenza relativa del colore cioè laddove io metto dei colori anche saturi che vengono in avanti ma lascio uno spazio a colori di più alta frequenza che quindi rompono lo spazio fisico architettonico e mi danno una una sensazione di profondità maggiore dopodiché il cervello è una macchina estremamente complessa quindi crea dei completamenti che si chiamano completamenti amodali e crea degli avanzamenti degli arretramenti molto molto forti per cui spazi anche piccoli io posso trasformarli ecco qui vedete in questo caso un avanzamento un po' molto violento perché siamo in uno spazio dedicato all'alzheimer aveva certe logiche ma si possono creare delle quinte sceniche anche piuttosto limitate piccole intorno a degli oggetti e dei campi lunghi come in questo caso realizzati da quel grigio cromatico che non è un azzurro è un grigio cromatico che appare il cielo lontano in questo caso diventa più facile realizzare questi spazi perché sono parziali quindi non devo togliere tutti i mobili e fare la tinta unica su tutte le pareti ma faccio delle campiture parziali e funziona l'abbiamo fatto in ambienti piccoli in asilo mariuccia per esempio abbiamo fatto diversi ambienti con questa con questa logica e quindi si è assolutamente possibile farlo anzi è auspicabile farlo è raccomandabile bisogna uscire dalla logica un solo colore per l'ambiente bisogna lavorare con più colori senza fare le arlecchinate ma bisogna introdurre le linee di confine perché il nostro cervello parte a costruire le immagini dalle linee di confine e la frequenza relativa del colore ecco perché parlavo di scienza prima ecco io però mi relaccerei a questo aspetto un pochino per per concludere perché un'altra domanda che ci fanno effettivamente siamo partiti dicendo che il colore non è una moda però sentiamo spesso parlare di colore dell'anno ci viene fatta una proposta cromatica ovviamente legata legata alle mode legata al mercato legata anche magari all'opportunità di cambiare frequentemente quelli che sono i colori e quindi mandare nuovi prodotti sul mercato però io penso sempre a quando fai vedere all'interno delle tue presentazioni relazioni quelle macchine fucsia che non si possono vedere ma magari un maglione fucsia se il colore dell'anno anche sì nel senso quindi all'interno della casa però magari all'interno dei diversi ambienti quali sono i colori più adatti cui possiamo possiamo pensare immagino ovviamente tutto quel tenue che abbiamo visto nella presentazione di adriano nelle immagini adriano proprio perché contestualizzati in ambiente domestico sì ma è anche accennato tu in un ambiente domestico colori così forti come quelli che vediamo nelle immagini non vanno bene quindi cosa utilizziamo nell'interno ambiente presidenziale nella casa ma intanto il colore è anche moda giustamente non è solo ma è anche moda e non ne siamo sensibili ne siamo sensibili e ci va bene perché la variazione è nell'uomo nella natura i nostri ritmi circadiani e ultradiani hanno bisogno del cambio della variazione la moda risponde alla necessità dell'uomo di cambiare quindi questo va bene dobbiamo essere noi però attenti ad applicare all'ambito merceologico il colore giusto diciamo la tavolozza giusta cioè se io ho un colore dell'anno per dire che vedo in queste vetrine durerà un anno un anno e mezzo due se io lo prendo e lo applico su una cucina che deve durare 20 25 anni già creo dei problemi se lo utilizzo per un bagno che deve stare in opera di nuovo i suoi 30 anni ho dei problemi se lo metto sulla facciata di una casa che può durare 50 60 anni non ha senso anche perché all'esterno ha una riemissione fotonica così alta che quello che ci sembra accettabile in piccolo in grande diventa accecante un po come questo giallo che adesso vedete così così sparato è un corridoio un sotterraneo e ci sta ma se fosse uno spazio di residenza non avrebbe senso che colori utilizzare io dico nello spazio privato siccome la storia il vissuto personale è l'elemento guida è un po la singola persona che sceglie qual è il colore che la fa sentire meglio dopo di che l'intensità la saturazione la può modulare un suggerimento che posso dare non mettetene uno di colori per tutto ma cercate di pensare come viene utilizzato quello spazio il rapporto figura sfondo che si genera se ho una televisione o un computer oppure ho la cucina come sfondo cambiano un po un po le cose tenendo presente che noi natura siamo sempre in ambienti un grande variabilità quindi non dobbiamo aver paura di creare delle variazioni anche l'interno dello spazio domestico certo si tratta di creare delle armonie chiamiamole così coerenti ecco quell'effetto che adesso vedete il colore più scuro che avanza il colore giallo che arretra il verde che va più lontano l'azzurro grigio che va ancora più lontano prima parlavo di frequenza relativa lo potete ottenere con molti colori quindi non è solo questa la gamma che si può fare se voi avete piacere di una gamma tonale sui verdi piuttosto che sui gialli piuttosto che sui rosati quell'effetto di minore o maggiore frequenza relativa lo si può ottenere scusa marco apre chiudo una parentesi il tema relativo in fisica non esiste cioè ogni colore una sua lunghezza d'onda punto perché parliamo di relativo perché noi non siamo robot non siamo macchine che leggono il colore intrinseco ma siamo persone che hanno una percezione e che mettono in relazione le cose quindi ogni colore ha un dialogo con colore che gli ha vicino ecco da da qui deriva la relatività quindi questo salmone di frequenza più bassa rispetto agli azzurri e grigi cromatici che li si vedono che avanza e quindi l'effetto di avanzamento di arretramento lo vediamo lo vediamo anche lì domanda da un milione di dollari con cui voglio concludere intanto vedo che stanno arrivando tantissimi like a questa a questa diretta la domanda da un milione di dollari questa coloro le pareti o arredi colorati ecco hai fatto bene a porre questa domanda perché è un tema da affrontare il nostro cervello dicevo prima è una macchina molto complessa se io ho una parete bianca e dico ma ho messo un colore neutro intanto bianco non è mai molto neutro ha una sua forza espressiva ma comunque diciamo che metto un colore neutro di fondo e poi ci metto tanti bei colori davanti ci metto i cuscini divano e tappeti le tende quindi lo rendo più ricco di colore bene se anche di quella parete io vedo solo un metro quadrato libero il mio cervello dipinge tutta la stanza di bianco entra in una stanza bianca con i colori giusto apposti ma la stanza rimane bianca perché il nostro cervello fa il completamento modale cioè dove c'è una superficie interrotta da un primo piano da un oggetto in primo piano il cervello non dimentica la parte dietro la collega e la dipinge quindi anche se io cinque metri quadrati di colore e un metro quadrato solo di bianco il mio cervello dice questa è una stanza bianca e la legge come bianca morale nello spazio privato siccome è più piccolo dello spazio pubblico è più ricco di oggetti a migliori finiture diciamo che ognuno quando sente di stare bene va bene così ecco è toccato un tema fondamentale quando sente di stare bene questo è proprio è proprio il tema il tema fondamentale allora il problema è pubblico certo il problema è pubblico e lì dobbiamo individuare la percezione il livello di percezione istintuale che quello che accomuna l'anziano al bambino la donna all'uomo e su livelli di percezione istintuale dobbiamo lavorare sul ritmo circadiano sul gioco della luce sulla variazione eccetera allora è arrivata un'altra domanda che ti faccio allora non è non è stata posta in maniera chiarissima però prova un pochino a interpretare questo questo aspetto il colore deve essere pensato su una parete come una decorazione o meglio far seguire quella che è la geometria del luogo nel senso pensando a volumi spessori non complanari andando a giocare su quelle forme che sono proprio dell'ambiente ma dipende l'uno e l'altro dipende dalle necessità è chiaro che il colore usato come i maestri alcuni maestri del Bauhaus avevano fatto ha iniziato a fare come parte dell'architettura funziona molto bene perché si crea una forza maggiore tra la parte fisica e la parte invece più più percettiva soft diciamo e con i colori si possono compensare si possono giustificare i pilastri che ti capitano in mezzo movimenti che sono il risultato degli impianti oggetti che vanno a nascondere o protuberanze che devono nascondere in piantistica li puoi far diventare oggetti parlanti li puoi giustificare puoi far sentire che c'è progetto ecco puoi giocare con questi elementi riportandoli all'attenzione o cancellandoli come abbiamo fatto molte volte quando hai canaline che non c'entrano niente sono state messe così in maniera neanche ortogonale senza una progettualità particolare senza una progettualità si creano quelle linee di confine il cervello è sensibile alla linea di confine se c'è un delta una differenza tra una tinta e l'altra sufficiente praticamente si riesce a cancellare quello che è dentro un certo campo totale perché la linea di confine prevale arrivata un'altra domanda aldo come differiscono percezione come si differenziano percezione e sensazione del colore non so se ha a che fare con aspetti oggettivi magari la percezione e più soggettivi la sensazione la domanda è molto secca così è il risultato di un'integrazione tra tutti i nostri organi di senso la nostra sensibilità è una sensibilità generale ed è una sensibilità specifica che si legano e si mescolano non possiamo dividerle cioè noi non siamo in grado di progettare per un solo senso quindi la sensibilità è ciò che percepiamo è tutto ciò che percepiamo non c'è una differenza sostanziale si può fare no no non si può fare perché è un intreccio troppo complesso certo perfetto allora io ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato spero ma lo vedo dai complimenti che stanno arrivando che questo in particolare tutta questa serie di appuntamenti vi stiano vi stiano dando delle dell'ispirazione per andare un pochino a ragionare su una casa del futuro che poi tanto futuro non è perché ormai ci dobbiamo abituare questo è stato un acceleratore importantissimo il covid a cambiamenti che sono repentini e rapidi come dico sempre forse fino a qualche mese fa nemmeno ci saremmo neanche pensati immaginati chiusi obbligati chiusi all'interno di una casa a dover a dover cercare di sopravvivere no a tutti gli effetti e dove gli elementi della casa diventano gli strumenti che abbiamo a disposizione per per sopravvivere ma e mi rilascio quello che hai detto tu prima no a stare bene all'interno dell'ambiente domestico credo che il colore effettivamente contribuisca anche a questa parte il colore la materia la percezione tutto quello di cui abbiamo abbiamo parlato oggi ti lancio una battuta giusto per chiudere in maniera quando parliamo di progetto del del colore parliamo della gestione della luce che non si vede e del colore che non esiste quindi se noi ci riflettiamo la luce i fotoni che viaggiano nell'atmosfera non si vedono la luce deve incontrare una superficie perché possa essere riemessa e quindi resa visibile così il colore non è presente sulle superfici è presente esclusivamente nella parte posteriore del nostro cervello nelle nostre cinque aree la v1 v2 v3 v4 v5 deputate alla sensazione del colore ma il mondo è grigio e non esiste radiazione riemessa che non ha colore la cosa ci può farlo così può essere apparire triste diciamo no allora io chiudo dicendo sì il colore non esiste intorno a noi noi siamo in un mondo senza colore ma lo vediamo colori quindi evidentemente l'abbiamo dentro quindi colore che noi percepiamo è nostro ed è dentro di noi quindi è già un po meno triste ancora cosa certo allora io ti devo strappare una una promessa perché più di un professionista ci sta chiedendo la correlazione tra colore e illuminazione io magari ti ti strappo questa promessa di rinvitarti in uno dei prossimi appuntamenti in cui magari parliamo di quell'aspetto perché no magari invito un'azienda che si occupa di illuminazione naturale una che si occupa di illuminazione artificiale vediamo cosa come farle dialogare tra di loro e con il terzo attore che se te parlando di colore cosa ne pensi aldo posso strapparti questa promessa troviamo lo spazio dai va bene ottimo perfetto allora vi ringrazio tutti per aver partecipato i nostri ringrazio te aldo ovviamente il nostro design talk la nostra web serie non si ferma ma vi do appuntamento a lunedì prossimo sto definendo l'ospite della prossima settimana quindi vi manderemo l'avviso vi manderemo una mail nel corso dei prossimi giorni ma questa è una chiacchierata un po itinerante aldo aggiungiamo un pezzo di volta in volta quindi io vorrei proprio portare queste queste esperienze e oggi peraltro vedo molto molto apprezzate stanno arrivando dei complimenti che poi ti girerò ai nostri ai nostri professionisti che ci seguono assiduamente da marzo con questa nuova modalità grazie mille aldo per la tua professionalità e per le tue nozioni che ci hai trasmesso grazie a tutti per averci seguito e buona serata buona serata a tutti